Al mio 3 vi farò una imitazione di Luciano Ondar, questo famoso personaggio appartenente alla televisione italiana che si occupa di realizzare, di condurre nel corso della sua storia professionale, una rubrica che è quella relativa a Tg Salute, va bene se non erro Tg2. Questo è un omaggio, questo è un video di ammirazione e di stima nei suoi riguardi, dato che qualcuno me lo ha richiesto. Vando alle ciance, 1, 2, 3, via. L'argomento di oggi è quello relativo alla cosiddetto coronavirus. Il coronavirus è un virus che fa paura, che spaventa un po' tutti, nessuno escluso. Ne parliamo oggi con il virologo, il dottor Roberto Burioni, capo della Università Italiana. Roberto Burioni, dottore, come mai questo virus fa così paura? Come mai così spaventa le persone italiane? Per quale ragione emette tanta preoccupazione? Per quale ragione fa tanto spavento? Sappiamo tutti che questo virus può spaventare soprattutto le nuove generazioni, ma per quale motivo c'è questa paura, quel senso di spavento che coinvolge tutti. È vero, dottore, che questo virus può addirittura arrivare tramite goccioline di saliva oppure una bufala quella? Se può eventualmente scolaggiare oppure no, questa teoria a noi farebbe molto piacere. La ringrazio, dottore, buona giornata e un saluto a lei. Arrivederci a tutti gli ascoltatori di TG2 Salute. Ecco questa imitazione che ho fatto, non sono stato bravo, me ne rendo conto, però spero che vi sia lo stesso piaciuta. Ciao da Leandro Conosciuto l'Italiano, iscrivetevi a questo canale, commentate e al prossimo video.